Che cosa è successo? No, io ho visto, se ho fatto il bacone, ho visto che si parla nel telefono, è bello e buono, ho visto un rumore che è bello e buono che se ne è caduto il palazzo, niente di più. Hai avuto paura? Eh sì, un poco. Cosa sai di questo palazzo? Sà solo che è fracido. Aveva già dato segni di cedimento, che stava per cadere? No, no, soltanto una pietra e subito è caduto un palazzo.